Vediamo come creare in modo semplice a casa le protesi per il trucco di The Mask. Cominciamo con i denti. Prendiamo sempre la nostra plastica termomodellabile. Facciamo scaldare dell'acqua in microonde. Quando la plastica diventerà da bianca trasparente saremo pronti a lavorarla. Prendiamo il calco dei nostri denti dell'arcata superiore e quella inferiore. Rimuoviamola e tagliamo il materiale in eccesso. Dopodiché passiamo a creare i denti. Incolliamo i denti al prezzo creato precedentemente con una super colla non tossica. Coloriamo un altro pezzo di plastica con il colorante alimentare rosso e incolliamolo sui denti. Prendiamo la testina di polistirolo e il lattice liquido. Poi prendiamo la farina e mescoliamo fino a creare una pappa non troppo densa né troppo liquida. Daremo forma alle sopracciglia, al mento e agli zigomi. Modelliamo bene aiutandoci con le dita. Lasciamole asciugare almeno per 24 ore. Ora prova tu! Quindi... Melvista.